Col diretti Puglia riduzione consumi del pesce azzurro, meno 10% per gli alici e meno 15% per gli sgombri. Solo il 56,6% dei pugliesi mangia pesce una volta a settimana. I dettagli nella scheda. Crollano gli acquisti di pesce azzurro che fanno segnare un calo che varia dal meno 5% per le sarde, al meno 10% per gli alici, fino al meno 15% per lo sgombro. Di contro cresce il consumo di spigole del 6,1%. E quanto emerso dal rapporto SOS pesce italiano elaborato da Col diretti Impresa Pesca sulla base di dati relativi al primo quadrimestre del 2019 dell'Ismea. A subire un netto calo sono anche gli acquisti, continua la Col diretti, di pesce bianco con la riduzione dei consumi che coinvolge soprattutto le triglie, i merluzzi, le sogliole e le orate. In forte crescita invece è la domanda dei molluschi. Un fenomeno che si spiega soprattutto, rileva Col diretti, con gli effetti del cambiamento degli stili di vita e la nuova tendenza da parte dei consumatori a preferire tipologie di pescato più facile da utilizzare in cucina, meglio se privo di spine o comunque semplice da pulire. Oltre che dal sapore più delicato questo trend è sostenuto anche dalla produzione dell'acquacoltura, dalle spigole alle orate. In Puglia paradossalmente i consumi di pesce sono tra i più bassi d'Italia, nonostante sia una regione con 800 chilometri di costa e una tradizione marinara molto forte. Solo il 56,6% dei pugliesi consuma pesce almeno una volta alla settimana, al 14esimo posto della classifica nazionale. La diminuzione del consumo di pesce azzurro impatta direttamente anche sulla salute, visto che questo tipo di prodotti ittici ha importanti caratteristiche nutrizionali, essendo il più ricco in assoluto per contenuto di Omega 3, che protegge il cuore, sostiene il metabolismo e combatte l'invecchiamento, ha spiegato Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia.